Musica Allora oggi è il primo appuntamento con Riciclia, ne avremo un altro ne avremo un altro a Nocera Centro a breve questa è un eco-bancomat nel quale adesso ci faranno vedere come funziona ognuno di noi potrà portare i propri rifiuti di plastica, le bottiglie, i flaconi e in cambio ottenere degli eco-bonus per voi ragazzi è importante perché questi eco-bonus potranno essere utilizzati per avere un blocchetto gratuito della mensa e aiutare in tal modo tutti i ragazzi che non possono permettersi di pagarlo visto che noi come comune in dissesto finanziario dobbiamo far pagare a tutti quanti la mensa scolastica ma oltre a questo adesso vedremo come funziona io voglio ringraziare non solo l'amministratore della Riciclia voglio ringraziare tutti i colori quali hanno lavorato perché questo progetto del miss è realizzato e voglio ringraziare gli sponsor che hanno diritto all'iniziativa che sono CHR, Dakar, Villella, Pizza Orte e Liberamente che sono tutte attività produttive che sono presenti sul territorio e che vi danno l'opportunità di avere uno sconto su tutti i loro prodotti e i loro servizi questi verranno pubblicati e saranno anche attaccati qui sulla macchina perché così lo possiate anche verificare voi stessi e saranno pubblicati sia sul sito del comune sia sul sito di Riciclia che dire, questa è un'iniziativa che per me e per tutta la Giunta è importante ci dispiace che non tutti hanno apprezzato il posto dove è stato collocato e su questo voglio spendere una parola deve essere funzionante questa macchina deve essere visibile deve essere visibile e deve essere posizionata in un posto facilmente raggiungibile da tutti e soprattutto l'abbiamo collocata tra la villa comunale e la stazione che è il cuore centrale, il pulsante di questa nostra marina e le scuole ma abbiamo deciso di collocarla anche qui perché all'interno di tutta questa via era la zona un po' più marginalizzata perché come vedete questa piazzetta dopo la realizzazione della villa dei Marciapielli è rimasta un pochino incompleta anche quel palo centrale lì dell'illuminazione costituisce anche un pericolo per la circolazione avere messo questa macchina qui in questa zona marginale comunque di una piazza centrale significa che qualificheremo e io come sindaco e come a nome di tutta la Giunta ci impegniamo a rendere questo pezzo di territorio comunale perché è un territorio pubblico comunale restituendolo alla bellezza, al paesaggio ma anche all'utilizzo ecologico, ecocompatibile ed economicamente produttivo per il comune e per le famiglie a tutti i cittadini quindi questo pezzo di spazio pubblico insieme a questa macchina e a quello che ci sarà dietro sarà il prolungamento di quella villa che sta dall'altra parte della piazza sposteremo il lampione centrale che è di ostacolo alla circolazione quindi riqualificheremo tutta questa zona in questo senso verso cioè una cultura di bellezza, di sostenibilità e sicuramente di scambio tra pubblico e privato non possiamo invocare il cambiamento, volerlo e poi però di fronte alle scelte nessuno ci vuole mettere la propria faccia qui la faccia ce la dobbiamo mettere tutti io spero che abbia grande successo e che voi ragazzi soprattutto spronerete i vostri genitori a differenziare il più possibile noi a giorni purtroppo rispediremo a casa la Tari che sarà una spesa non indifferente quest'anno come aumento vista la dichiarazione di dissesto dovendo coprire l'intero costo se noi diventeremo un paese virtuoso per quest'anno pagheremo la mazzata ma per l'anno prossimo potremo contare su una riduzione dei costi e quindi potremmo ridurre la Tari aiutateci a fare bene il nostro lavoro di amministratori se voi ci darete una mano noi non solo riusciamo ad amministrare meglio questo paese non solo vi renderemo maggiori servizi ma nel breve periodo pagheremo il debito e cercheremo di ridurre mano a mano le tasse e le imposte comunali cedo la parola al direttore Guardi, credo che lei sia stata estremamente esaustiva e abbia dato tutte quelle che sono le indicazioni utili alla cittadinanza su una cosa siamo straordinariamente concordi che saranno questi ragazzi a dare le indicazioni più importanti a essere loro a preservare quello che è questo meraviglioso territorio dove tutti partecipiamo in qualità di cittadini il motore educativo della famiglia è sicuramente attraverso anche quelle che sono la gestualità quotidiana capire che da quello che può essere un problema un rifiuto diventa immediatamente una risorsa questo non può fare solo che bene alla loro, alla nostra cultura al senso civico, al senso di appartenenza a quello che è l'ambiente in cui viviamo quindi essere sempre più rispettosi e coscienti di questo tipo di opportunità che ci viene data giorno per giorno il fatto di poter avere poi anche questo tipo di spinta da parte dell'amministrazione quindi aver dato questa visibilità mettere nelle condizioni quelle che sono le attività commerciali di avere un ritorno di avere quello che è una premialità al cittadino che trova subito quello che è un'opportunità di risparmio per quelle che sono le proprie energie finanziarie tutto questo produrrà sicuramente anche quello che è una riduzione di quelle che sono le imposte che gravano su quelli che sono i servizi che i comuni devono accullarsi dovendo gestire quelli che sono i sistemi di raccolta differenziata con pochi mezzi, pochi strumenti ecco la più opportunità che un'azienda privata può dare con piena sinergia integrandosi in maniera, non sostituendosi perché non siamo nella possibilità di sostituirsi ma poter dare quella sensibilizzazione alla raccolta differenziata non convenzionale che fa bene a tutti e crea un'economia circolare di ottima qualità grazie la preside la scuola non può essere che a fianco a queste positive iniziative perché i bambini rispondono in una maniera quasi automatica a queste esigenze hanno voglia di prospettarsi un futuro dove il paesaggio è pulito il mare non è inquinato le strade brillano le scuole sono a posto è vero e loro sono prontissime a dare il contributo anche perché questa iniziativa è perfettamente allineata con tante cose che facciamo con la scuola dall'ortobiologico al rapporto con l'intenzionista con il riciclo che vanno in classe nei laboratori trasformando gli scarti in oggettini so che faranno anche a Natale un piccolo mercatino dove vendere queste cose che loro trasformano da rifiuti a risorse come giustamente diceva il direttore saremo sempre a fianco dell'amministrazione per queste iniziative perché davvero ci qualificano come scuola e ci qualificano come comunità perché la scuola è una parte importante di questa comunità quindi grazie a tutti voi e noi faremo la nostra parte del resto lo dicono anche questi bellissimi cartelloni e adesso lo metteremo in mostrato così faremo una carrellata di immagini su questi cartelloni mettendoci tutti a lato un po' più in sicurezza in modo che le riprese possono essere rivolte soprattutto al lavoro dei ragazzi anche al lavoro dei ragazzi io credo che dovremmo dare una dimostrazione di quello che è il funzionamento di come funziona ai ragazzi facciamo un po' per uno così con mano tutti possono apprezzare un'altra opportunità quindi come funziona prima si fa l'attività di utilizzare l'ecocompattatore sia naturalmente in maniera istintiva aprendo e conferendo quello che sono i materiali le bottiglie sono quelle dell'acqua delle bibite quindi pezze che sono materiali per i contenitori di liquidi alimentari le lattine di alluminio e tutto quello che è il flacone detersivo, detergente, lama pavimenti, igiene personale la macchina indica sia la tipologia quindi il nome del prodotto sia la natura merceologica e il simbolo che troviamo sotto tutti gli imballaggi recuperabili, riciclabili chiediamo di separare il tappo da quello che è l'imballaggio perché sono due materiali diversi quindi partiamo già da subito con quello che è l'educazione della separazione dei materiali il tappo nella fessura dei tappi creiamo lo sportello e la macchina ci dice che cosa sta facendo raccoglie la bottiglia la riduce del volume e mi dà quello che è la numerica del punto ambiente all'atto abbiamo una serie di indicazioni di quello che è la premialità in questo caso so che è stato adottato quello che è una premialità per diversi di quelle che sono le aziende del territorio quindi stampando il ticket viene indicato il punto ambiente che ha un valore economico utilizzabile presso le attività convenzionali bisogna conservare i punti e poi dove si presentano? si possono presentare 1500 punti di questi equivalgono a un blocchetto intero della mensa poi qui c'è la leggenda con 50 e 25 pezzi c'è una spesa minima al CHR da Dakar da Villella da Pizzortè da liberamente e poi sicuramente e poi altre attiende che saranno sicuramente interessate e incentivate a creare questa economia circolare le troverete apposte in termini di grafica sia sull'ecocompattatore sia sul sito del comune sia su quello che è il sito della riciclia è molto semplice la macchina offre anche l'opportunità di potersi anche identificare come dicevo con la propria tessera sanitaria e il codice fiscale questa macchina è collegata in rete quindi è sempre online quindi comunica anche i dati del cittadino quanti materiali ha conferito proprio con l'opportunità e la finalità che un domani l'azione del singolo cittadino che può essere utile alla collettività possa essere premiata con quello che è una riduzione sulla tassa a porto di tutti partiamo da qui partiamo dalle piccole cose che diventano sempre più importanti sempre più interessanti dicevo si avvicina la tessera il codice proprio codice fiscale e la macchina mi dà l'opportunità di essere riconosciuto sia da un punto di vista grafico o dal dato che raccoglie posso offrire quelli che sono i materiali ripeto la bottiglia il tappo da una parte la bottiglia dall'altra i flaconcini i flaconcini per l'atto il tappo da una parte il tappo dall'altra le lattine non abbiamo lattine avete qualche lattina? no ma non è un problema per quanto riguarda ripeto quelli che sono inventi i materiali di contatto la macchina continua a prendere e alla fine dei conferimenti mi ricordo di portarmi a casa i miei punti a vita molto semplici adesso lo facciamo fare a tutti i ragazzi tutti i ragazzi facciamo passare a turno facciamo lo scontrino finale facciamo lo scontrino finale così lo teniamo per la scuola io ti assisto se avete bisogno di me allora con il cartellone si mettono da queste parti vero? voi con il cartellone mettete via queste facciamo la selezione bastone che è il più giovane c'è il cartellone che non ci può muovere vai a vedere vai mi torna il colpo ma lei le bottiglie hanno già portato allora scusami vai 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 no dovete cercare il tappo allora togli il tappo perché non lo sentite eh sì tappi bottiglie Carmela a te ce la fai ad arrivare il tappo brava bravissima prima il tappo è un modo per crescere molto più velocemente noi possiamo fare anche dello sport prima il tappo però lo dovremmo fare per tutti il biglietto così per tutti o la papà sì secondo me sì così lo vedremo tutti prima il tappo il tappo il tappo che lina bellissimo si vuole il mio genitore che c'è attento per il conto grazie grazie conservalo abbiamo il primo scontrino voglio dire non è d'accordo io prendo il mio volo sono da smegli avanti dai veloce veloce aprite la bottiglia sì lo devi aprire come non franzano quando vuoi pensare sì ce lo dobbiamo sentare wow sì ciao 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 Grazie a tutti